Musica Il grande Rino se n'è andato, mi ha lasciato tanti insegnamenti, mi ha lasciato soprattutto anche un po' di passione per me che la montagna era davvero una cosa quasi inavvicinabile. Lui me l'ha trasmessa, ha saputo trasmettermela o perlomeno ha tentato di trasmetterla. Devo dire che in certi frangenti c'è anche riuscito. Non era assolutamente facile ma la sua semplicità, la sua grandezza e soprattutto la sua cordialità ma anche la bontà che aveva in qualsiasi parola è riuscito a portarmi qualcosa. Qui lo vedete in questa immagine, assieme a lui c'è un altro grande amico, un altro con il quale ho condiviso la passione non soltanto per le riprese ma forse anche un po' per la montagna con i suoi filmati. Ecco, proprio ti lascio Rino con questa immagine. Sono sicuro che da lassù incontrerai Rudy e con lui parlerete ancora di montagna e delle vostre passioni. Ciao! Ciao! Ciao!